Non c'è solo poggio reale, anche Bellizzi Irpino è un inferno. Il sindacato lo denuncia da tempo e ora scende in campo in difesa degli agenti della polizia penitenziaria, finiti nel mirino dopo la fuga clamorosa dal carcere napoletano, un episodio che non accadeva da cento anni. C'è un'inchiesta della magistratura per verificare responsabilità interne e possibili complicità riferite ai vuoti della sorveglianza sull'evasione del killer polacco, poi catturato dopo 36 ore, ma Emilio Fattorello, segretario nazionale del SAP, chiarisce. Non scaricate tutte le colpe sugli agenti. I detenuti non scappano perché non ci provano, perché ritorniamo a poggio reale, è vero che c'è un bastione come muro di cinta, però noi le 70 sentinelle che avevamo prima nei quattro turni di servizio non ne abbiamo più, sorveglianza armata non ne abbiamo più, abbiamo una ronda che gira attorno all'istituto, abbiamo movimentazioni interne di decine e decine di detenuti accompagnati da poco personale. È inutile che io nasconda qualche omissione, qualche punto debole della sorveglianza che c'è stata, però io nello stesso momento dico lavorare tutti i giorni in quelle condizioni non poi possiamo diventare noi il capo respiratorio anche se c'è stata qualche distrazione. Cinque suicidi, 250 atti di aggressione in un anno e 13 morti per cause naturali. Sono alcune delle cifre del carcere di poggio reale dove ci sono mille detenuti in più del previsto e i poliziotti sono pochi e stressati. C'è bisogno di una svolta nella gestione degli istituti di pena. Se noi continuiamo ad avere questi scatoloni che poi chiusi dalle quattro mura fanno girare la faccia all'opinione pubblica, nessuno si interessa poi, almeno qualche operatore particolarmente attento, nessuno si interessa a questa conduzione, noi avremo discariche della società in questo istituto. Purtroppo è forte quello che dico.